Noverka Plus rivoluziona il modo di telefonare. Scarica l'app gratuitamente e virtualizza la tua SIM. Puoi chiamare e ricevere tramite internet senza preoccuparti di avere la SIM Noverka inserita nel dispositivo. In assenza di segnale sarà sufficiente una rete wifi per essere sempre reperibile sia da mobile che da fisso. Hai la possibilità di visualizzare credito residuo, piano tariffario e quali contatti della tua rubrica sono online su Noverka Plus. Utilizzando la SIM del tuo operatore e il numero Noverka virtualizzato, ogni smartphone può essere utilizzato come fosse un dual SIM e il tablet come uno smartphone. Tramite l'app effettui e ricevi le telefonate da tutto il mondo e abbatti i costi delle chiamate internazionali. Inoltre, le chiamate tra utenti sono totalmente gratuite. Per usarla basta avere un numero Noverka. Se sei un nuovo utente, puoi richiederlo direttamente da là. Noverka Plus è disponibile su App Store e Google Play. Grazie a tutti. Grazie a tutti.